Cosa abbiamo oggi di buono da mangiare? Polpette di patata Abbiamo ravioli 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 spinach ricotta cheese Sì Made with organic wheat spinach tomato Sì, sembra bene Dolly Ciao a tutti Gravioli di Giovanni Rana Stavo giusto mettendo qua Girate dall'altra parte È stato di scoperto recentemente Da un recente studio Che le ostriche Hanno poco colesterolo E lo abbassa anche Cosa molto strana Perché io non avevo Tutti mi avevano sempre detto Che le ostriche Hanno molto colesterolo E invece no Dicono di no Contengono Vitamina A Convertime Mi converto al pesciariano Mmm 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 Can you show me something I guess when you're done with your lunch Yes I'm coming soon It's something funky on the homepage I can't find the sidebar text Okay What are you eating? You've been eating a lot of microwave dinners You usually don't do that I don't know I don't know Where is the problem? On the homepage when you're in edit page mode Because if it does that we need to I can't find the sidebar On page, pin page, is that I don't know, I'll check it I don't know where I have to Can you make that to where it's not so Okay To where it evens up like on the other pages And the services I have a big blank spot too there Okay Thank you Oh, check it out Il problema di questo sito web È che vuole il controllo di troppe cose Infatti come dicevo io nel video La prossima volta utilizziamo visual composer Così può creare sidebar, columns, box Perché altrimenti in wordpress Se devi fare tutto manualmente Devi creare un field per questo 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 Per questo Aum Sto mouse lo distrugge Perché non sta funzionando bene Grazie a polle Che è successo Vedi con advanced custom field Ho creato 50 fields Questa è la home page Poi l'altro Hai il sidebar Si deve essere Angellato Si deve essere Angellato 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 La scorsa settimana Come se lunedì fosse Siamo venerdì Ancora ci sta lavorando Puzzola E in radio Lo dicevamo Le persone che Dopo opinione Mi sono sulle pane Angellato 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 Spacca Spacca Vabbè Ci si vede Un'altra volta Ciao 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 Marco